No, fa cagare e basta, Felder Rispondi e mi faccio il cafone Se vuoi poi farà il cafone Vabbè dai, non vado per quella up, anche se potrai Vabbè, un hit glielo do Qui c'è qualcuno Ho trovato Billy su casting Sono felici Un action figure del padrino è bellissimo Che cosa è importante, insomma Devo uccidere, non so perché non si è andato di M1 qua Guardate che è un dracculo, ma minchia il lag ne serve A me non il lag ne serve in realtà Non ho dovuto saltare Nice Quando la vedrai te ne ne muore Posso dire che sembra più forte di Wesker Come ho fatto il Wesker No, l'ho visto, cazzo Ok, usare questo potere qua è totalmente inutile Però è inceso così È praticamente inittabile Nice Siamo ancora a 5 gen Adesso abbiamo di nuovo barbecue Che, interiore Nice Ah, è solo... Ahuuu! C'è il solito problema dello Shackley Close What the fuck What the fuck sto hit Illegale Completamente illegale sto hit No vieni qua bastarda Ti voglio far saltare in aria Vieni qua Ah niente Dovevo farla saltare in aria perché mi è finito il jam Ha tirato una testata alla finestra Ho parla presa testa alla finestra GG Ho guardato troppo in alto Fino ad ora Gli addoni migliori più economici quali sono Quello che ho verde E quello marrone forse che Ti permette di usare i poteri prima Quando ti trasformi Ho capito cosa fanno No scusa Quello verde che ho è il migliore assoluto Secondo me perché la forma lupo è la più forte Ormai tutti prendono per la cosa Niente più abbracci Tentativi di rimorre il zero Rapidità brutale No perché tanto vado a pochissimo Gli attacco a base Ciao Lisa buonasera Quindi com'è questo dragolo post patch È veramente tanto forte Cioè cos'è che fa? C'è scritto male in italiano Che è la statua dietro di te È Freddy Cioè non riconoscete già Freddy? Aiaiai male Ciao gnei gno Buonasera Beh non è durato molto Questo primo chase Non sta neanche wigglando E ha quittato Per ogni token Diminisce del 5% Il cooldown di Elfire E c'è un massimo di token Ciao Anubi Buonasera Vabbè Tutti che quitta Ah Ops Ci passerà qua? No Dovevo provarci Ciao ragazza Buonasera 5 è il massimo Destiny Can be quite fun Sì Sì vabbè Ma contro due bot Che no Aia raga Ma perché la gente quitta Sono tentato di abbandonare e rifarlo Onestamente Ma ti pegato il bot Di display Ciao russa Buonasera Come si guardano dietro Sì E camminano drittissimi Tra l'altro Attenzione partita comp Sono triste Quando quittano in 3 Porca macca Cioè Se quittano in 3 Potrebbero far Che finisce Direttamente La partita E basta Cioè Onestamente È veramente Una perdita di tempo Così La Kate Non bot La lascio andare Dai Non so perché È l'unica Che è rimasta Dentro la partita Almeno Non provi Non provi Di escapare Sì Vabbè Potrebbe non farli Sti save Però Oh no Benchia Ma pure sbagliato Il Dard Sniff 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 Si è messo sotto il gancio Il bot Perché voleva morire Anche lei Perché Tutti Ho capito Che li sfasci Però È boh Bella domanda Oh Oh E dai Oh Chuck it Mi sta dando le sberle Mi sta dando le sberle Teoricamente Teoricamente Il sangue del bot Non esiste Perché è un bot Cioè Sto bevendo Del catrano Sì Del catrano Vabbè Oh Mi è stato Mi aiuta Ciao Ciao Buonasera Mi sembra molto È molto forte Sto fill Dai Cerchiamo la botola Che bello Che bello Quando non diventa Tutto nero Lo schermo Quando ti tippi Trovata Ma ci sono passato Non l'ho mica vista Ah no Non l'ho trovata Ma come è possibile Che non trovo la botola Io raga Io non capisco Non ho chiesto Di fare il morico Tutti Con il risultato Che vedremo Dracchi Oh What the fuck Non capisco Ehm No Sus Abbastanza sus No Ho capito Perché hanno Quitato In tre Comunque Sono confuso Sono molto confuso A sta cosa Ho capisco He Grazie a tutti.